Noi comunque siamo un paese ancora immaturo da questo punto di vista, per tanti motivi, vedi caro Francesco. Io volevo fare una precisazione così questa cosa poi magari la mettiamo anche nei social e spieghiamo che tante volte, vedete, possiamo risparmiare alcuni commenti inutili e che peraltro disvelano che noi siamo un popolo ancora un po' immaturo. Noi abbiamo un pubblico, devo dire, molto qualificato e questo ci inorgoglisce. Ne parlavo proprio stamattina in privato con Francesco Borgonovo e ci dicevamo, anzi no, ieri sera, scusate, ieri sera ne parlavo con lui proprio perché noi valutavamo insieme che abbiamo un pubblico, devo dire, molto qualificato perché non vediamo molti insulti, c'è una sostanziale grandissima educazione nei commenti e nei dibattiti, nei thread, come si dice oggi in gergo tecnico, nei dibattiti che si creano all'interno intorno a un argomento. Poi ovviamente c'è qualcuno che sfora, però sono molto pochi rispetto alla media. Social è un posto dove la gente vomita, quello che vuole, anche molto volgare, trash. Invece devo dire che noi siamo molto orgogliosi di avere un pubblico, però anche all'interno di questo pubblico poi i pierini ci sono sempre. Cioè esce fuori anche dalle persone non trash e anche in modo educato, però la pierinitudine che abbiamo dentro esce sempre. Cioè questa storia che noi italiani dobbiamo per forza cercare di dire la nostra, siamo i precisioni. Faccio due esempi rapidissimi. La scorsa settimana ho condiviso, ti ricorderai Francesco, con tutti, ho voluto condividere un momento di emozione che avevo vissuto al mattino. Cioè quando avevo visto questa storia di Draghi Premato con quella specie di corno che poi dicono sì ma quella è un'aquila, sì vabbè sarebbe un'aquila, però in realtà qui sarebbe da aprire un discorso molto lungo magari lo facciamo con il nostro prossimo interlocutore, però in realtà è un'aquila ma che ha le ali a forma di corna ma fosse qualcuno l'avrà fatto apposta per simboleggiare varie cose perché poi la gente che non c'è un cazzo da fare nelle loro riunioni massoniche decidono e di lobby, decidono queste cose da sottoporre, queste cose incredibili. E quindi avevo avuto questa sensazione, proprio questa paura e mi sono messo ad ascoltare una musica e ho citato Pino Mango che ha scritto una meravigliosa canzone, si chiama Mediterraneo che è una di quelle cose che io ricordo che ancora mi fa emozionare perché probabilmente quando nel 92 lui insieme a Mogol l'hanno scritta hanno toccato le corde o forse la prima volta che l'ho ascoltata era un particolare momento, insomma è un brano che a me emoziona molto perché poi rappresenta il mio paese, il nostro paese, l'Italia e in modo particolare rappresenta la Sicilia io questo l'ho detto, dico, ha descritto bene la sua Sicilia ma io non volevo dire la sua Sicilia, la nostra Sicilia non volevo dire la sua Sicilia perché lui è Sicilia lui è nato al Lago Negro, lo sappiamo tutti, che è nato al Lago Negro e che è a Lucano e che diciamo c'è una parte da Maratea che si affaccia da quelle parti che si affaccia anche su mare ma lui non stava descrivendo amici che avete voluto fare con molta educazione devo dire ci sono persone che con molta educazione hanno fatto questa precisazione hanno detto, è tutto bello, tutto meraviglioso però, però guarda che lui è di Lago Negro non è siciliano ora, ma in una situazione emozionale dove noi ascoltiamo un brano che oggi peraltro ci emoziona ancora di più perché ci racconta questo nostro paese straordinario le parole bellissime sue di Mogol che ci fanno chiudere gli occhi e ci mostrano i nostri meravigliosi paesaggi che io, ripeto, io la domenica, il sabato la domenica devo uscire per forza a farmi un giro lo racconto, poi farò vedere anche i filmati che anch'io faccio così ma ovviamente quando mi porto, sai, quelle camerine ti devi portare dietro nei posti meravigliosi che abbiamo perché li guardi e poi ti rimangono dentro li vuoi anche rivedere sebbene in un filmato non rappresentano la stessa cosa però anche solamente per riemergerti ecco, ascoltare una canzone è come riemergerti allora abbiamo parlato di Mediterraneo, di Pino Mango e lui voleva intendere proprio il Mediterraneo visto dalla sua, dalla nostra Sicilia ma non perché lui fosse nato lì ma perché era un luogo che lui ama io ne ho parlato con lui un giorno proprio a pranzo insieme mi fate vedere quella foto perché il nostro ascoltatore Fabio ci ha mandato eccola qua ci ha sbloccato un ricordo di Pino Mango qui negli studi di Radio Radio ti ricordi? non qui, nei vecchi studi ecco, questa è una foto del 1996 credo è una delle tantissime volte che Pino è venuto a trovarci in radio e dopo quel giorno lì che Fabio ci ha ricordato con la foto che ci ha mandato noi siamo stati a pranzo insieme credo, sì, proprio quel giorno era e abbiamo parlato di Mediterraneo perché? perché a me aveva lasciato veramente un'emozione straordinaria una pittura cioè un disegno esatto del nostro paese ovviamente con l'aiuto anche di Mogol grande paroliere ma lui rappresentava la Sicilia cioè visto dalla Sicilia e anzi visto anche da Lampedusa dove ha girato il suo video ufficiale di Mediterraneo quindi è vero che lui è di Lago Negro ma lui stava rappresentando il mare che lui adora e quel Mediterraneo visto dalla Sicilia verso il sud bellissimo o verso ovest proprio perché ad ovest il sole poi tramonta è bellissimo e il video infatti lo ha fatto Lampedusa poi ancora più giù ecco quindi queste precisazioni che smontano un po' l'emozione della cosa vanno bene però cerchiamo di capire il senso ecco noi siamo un popolo così di Pierini che fanno così oppure quando quelle volte che ti scrivono eh ma tu stai difendo abbiamo difeso la scorsa settimana non Giorgia Meloni ma il principio del non insulto sui giornali perché Giorgia non aveva bisogno lo ha dimostrato e lo avevamo già detto la scorsa settimana non ha certo bisogno della nostra difesa ripeto ancora non lo ha mai chiesto e noi non vogliamo manco mai farlo abbiamo soltanto difeso il principio che tu non puoi sui giornali in prima pagina insultare le persone etichettarle con una diffamazione una denigrazione del genere neanche fosse per una battaglia politica io mi sento di non condividere questo atteggiamento dei nostri giornali di quelli che dovrebbero informarci e invece ci inducono all'odio alla cattiveria e noi abbiamo preso quegli esempi ecco le persone alcuni per fortuna pochi eh ma tu lo sai che stanno già fai giochi perché se stanno a scambiare le cose per cui quella roba là non hai capito che serve soltanto per fare pubblicità signori noi dobbiamo uscire da questo concetto di complottismo a tutti i costi o di pierinismo a tutti i costi noi dobbiamo maturare un po' ecco questo è quello che voglio il mio messaggio era questo ho preso due esempi che sono palesi per spiegare visto tra l'altro con persone che lo hanno fatto anche in modo ripeto molto educato e questo è straordinario già questo va bene però miglioriamoci ancora un po' non diventiamo come loro non cediamo cerchiamo di capire le cose fino in fondo e di evitare di pensare eh ma quello ha detto che quello era siciliano non è vero no io non ho detto quello ascolta bene poi soprattutto che senso ha ok ecco evitiamo secondo me di di eh di fare un qualcosa di poco maturo ecco perché se no poi continueremo a prenderci i green pass le punture obbligatorie la limitazione della nostra libertà e le bollette moltiplicate per 5 per 7 per 10 caro Francesco ecco questo è il mio appello accorato c'è il mio appello Grazie a tutti.